Il resto di venencio, quello che mi rompia che ne avevo comprato tutte cose che volevo dire è molto leggero, è molto importante, è molto stavolato, è molto stavolato, è molto stavolato è molto stavolato, è molto stavolato, è molto stavolato, è molto stavolato chi no se volete, non lo so a casa non mi vedo, io non lo so le viste da così ne erano lì, non ho mai mai capito Grazie a tutti.